Il calcio Napoli e il Trentino insieme per tre anni, chiuso l'accordo tra il club di Aurelio De Laurentiis e l'assessorato al turismo della regione del nord-est. Una conferenza stampa congiunta ha sancito i termini dell'intesa. Sarà a Di Maro Valdisole come lo scorso luglio ad ospitare la comitiva azzurra. Una partnership nata anche con l'intento di far conoscere ai tifosi napoletani il comprensorio non solo nel periodo estivo. Anche nei mesi invernali infatti i tanti turisti partenopei saranno accolti da un ricco ventaglio di proposte sia in Valdisole sia sull'intero territorio provinciale. I punti di forza intorno ai quali si articola la proposta del Trentino sono legati alla capacità di coniugare la tecnologia con l'ambiente naturale, ovvero di migliorare costantemente la fruibilità della montagna, minimizzando l'impatto ambientale delle infrastrutture per fare in modo che le attuali e le future generazioni possano godere dei panorami di cui hanno goduto i loro nonni e i loro genitori. Non è un caso che la novità più interessante dell'inverno 2011-2012 sia il varo del nuovo collegamento funiviario grazie al quale la Sky Area, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val di Sole è ora realtà. Oltre 150 chilometri di piste fruibili senza togliersi gli sci dai piedi e con un unico schipassa. La più estesa area scistica del Trentino è una delle più ampie d'Italia, un deciso passo avanti nella mobilità alternativa.